Ciao sono Martina e sono quella della libreria divisa per colori, questa per intenderci Ma bentrovati sul mio canale o bentornati sul mio canale, come state? Tutto bene? Spero stiate bene, mi sto sistemando come sempre così alla buona insieme a voi Oggi nuova video recensione qui su youtube di un libro in realtà molto atteso, che in realtà è stata una serie tv molto amata negli ultimi mesi Che tra l'altro, faccio una premessa, io questa video recensione la sto facendo prima di aver visto la serie tv Perché la serie tv non l'ho ancora fatta, però vi motivi perché non ho Netflix sostanzialmente Però ho voluto proprio fare questa cosa qui, di leggere il libro, parlarvene e poi successivamente guardare la serie tv Perché volevo, non volevo interferenze, volevo che questa recensione fosse solo ed esclusivamente sul libro Ormai avete capito anche dalla copertina di quale romanzo sto parlando E infatti il romanzo è il prequel di Bridgerton, tutta la storia di re Giorgio III e della regina Carlotta Allora l'ho divorato Cioè non mi aspettavo, intanto, premessa, bisogna farla perché ogni tanto mi dimentico di dirlo Questo libro mi è stato gentilmente offerto, omaggiato, mi è stato gentilmente inviato da Mondadori Quindi questo video è in collaborazione con loro, che ringrazio tantissimo per l'invio Anche se non mi cagheranno sostanzialmente, però grazie È un libro che volevo, volevo leggere da molto tempo Poi c'è stata la possibilità di fare la collaborazione e ho preso la palla al balzo Premetto anche questa cosa È tutto fare un premesso in questo video, non è in realtà specifico delle cose Io di Bridgerton ho visto, ho letto il primo libro e ho letto e ho guardato la prima serie tv Basta, tutti gli altri devo ancora mettermi in pari con tutto quanto Quindi sono vergine della seconda e della terza stagione di Bridgerton E non ho visto la regina Carlotta come serie tv Però ho voluto leggere questo libro perché mi hanno detto essere stratosferico Intanto guardate la meraviglia, cioè questa è la cover inerente al film Ma c'è in realtà anche questa che è la cover più diciamo più storica Stupendo Il romanzo in realtà è molto semplice Semplicissimo E dentro non c'è niente di che In realtà anche gli interni sono super semplici E appunto come dicevo prima mi hanno detto questo romanzo essere stratosferico E così è stato È stato letteralmente un viaggio Un percorso Una conoscenza Delle emozioni strabilianti Di una coppia strabiliante Quella di Re Giorgio III e della regina Carlotta Mi è piaciuto perché hanno spiegato ogni cosa Senza però adentrarsi troppo nei dettagli E quindi senza annoiare il lettore Ma allo stesso tempo sono riusciti a dare la giusta chiave di lettura a questo libro Mi è piaciuto il finale anche se ho sofferto come un cane ve lo giuro Il finale mi ha spezzato il cuore Però mi è piaciuto come è stato trattato l'argomento della malattia di Re Giorgio III Come hanno spiegato la sua storia con Carlotta È stupendo Vi giuro è stato un viaggio emozionante In quest'epoca in cui praticamente non esisteva la salute mentale Ed era proprio un tabù sotto ogni punto di vista E vedere che comunque una regina come Carlotta Si innamora pazzamente di Re Giorgio III E lui la allontana perché gli dice Io sono pazzo, non posso stare con te Cioè vi giuro ci sono delle frasi in questo libro Dei dialoghi che mi hanno letteralmente spezzato il cuore In questo libro Che poi io penso anche nella serie tv Perché mi hanno detto essere dieci volte meglio del libro Come ogni volta sostanzialmente Ma io vi parlo essenzialmente solo del libro Ci sono dei dialoghi che mi hanno letteralmente spezzato il cuore Ma poi la loro storia secondo me è l'emblema E la visione del vero amore È quello che una relazione dovrebbe essere In ogni epoca, in ogni parte del mondo È qualcosa di davvero davvero profondo Mi è piaciuta tantissimo la crescita in realtà Di quelli che sono un po' i due protagonisti Quindi di Giorgio e Carlotta Mi sono piaciuti C'è l'empatia proprio sin da subito Che i due hanno l'uno verso l'altra È qualcosa comunque che vi rimane davvero tanto impresso Ma in realtà la cosa che vi rimarrà più impresso Mentre leggerete questa storia È proprio quel coinvolgimento emotivo E quella parte emozionante Che secondo me Non c'è in tutti gli storici Cioè comunque io sono una lettrice di storici Mi piacciono Non mi piacciono tutti Mi piacciono la gran parte Ma questo genere di storie Con questo genere di argomenti Con questo genere di linguaggio Mi piace da impazzire Tra l'altro il libro è scritto in terza persona Ma vabbè è uno storico Quindi Non avremmo Non avremmo avuto altro Cioè non mi sarei aspettata nient'altro Ma Come si dice Cioè posso fare Ma non si Cioè di solito Quando si legge uno storico In terza persona Si tende poi a fare fatica No È comunque Allora È scientificamente provato No non è vero Però Con la mole di libri che leggo Ho capito una cosa La terza persona Se scritta bene Si entra in empatia In 30 secondi A differenza con la prima Subito già dal primo capitolo Alla prima riga del libro Tu Entri già nella storia Invece con la terza persona Se non è dinamica Se non è fatta bene Tende a non prenderti Quanto un libro scritto in prima Questo libro Cioè vi giuro Dalle primissime righe Voi riuscite ad entrare Nel romanzo Ad entrare nella storia Ad entrarvi in quello che è Il regno di Giorgio e Carlotta E Focalizzarvi su quello Che è la storia in generale E vi giuro anche questa cosa Secondo me è un punto A favore Ora devo riprendermi E poi guarderò la serie tv Ma come ho detto all'inizio del video Non ho ancora Netflix Penso questo mese di farlo Anche perché ho un po' di cose Da recuperare in quella In quella piattaforma Cioè l'ho avuto per un periodo Poi l'ho tolto E adesso devo assolutamente recuperarlo Anche perché questa serie tv Della regina Carlotta È la prima serie che voglio vedere Appena riattivo l'abbonamento E niente Secondo me Una storia da leggere Da comprendere Da capire Almeno una volta della vita Da scoprire Poi che sia romanzata Non lo metto in dubbio Io non sto parlando della storia Come Pilastro diciamo Quindi nella storia di Inghilterra È tutto Però posso assicurarvi Che questo libro è stupendo Romanzato benissimo Che secondo me Non ha storpiato Neanche più di tanto La serie tv Ma questo ve lo farò sapere Che mi ha tenuto incollata Vi giuro L'ho letto in quattro ore Cioè Bruciato L'ho bruciato Cioè io praticamente L'ho cominciato a leggere Ho detto Ma se si leggo qualche capitolo Mi porto un po' avanti Così poi Faccio i contenuti Raga Quattro ore l'avevo finito Cioè che cosa è successo nel mentre non lo so Però davvero Una lettura strabiliante Che vi consiglio tantissimo Soprattutto se siete amati di Bridgerton Spero di riuscire a recuperare Tutta la serie di Bridgerton E farvi un video dedicato Perché è una serie che Cioè mi piacerebbe recuperare Anche se so che tra la serie tv e i libri Sono praticamente Cioè due mondi a parte Però so Voglio proprio farvi un video E Dedicarlo a A questa cosa qua Anche perché so che molti In realtà me l'hanno chiesto Spero prima o poi Di riuscire a farlo E niente Questa è la mia umile Opinione Per quanto riguarda La regina Carlotta Se avete la possibilità di recuperarlo Fatelo Che sia per avere solo il libro in libreria Che sia per leggerlo Io penso che i 22 euro Perché questo libro costa una sassata Vale la pena spenderli Cioè Non lo dico perché Mi è capitata la collaborazione E io contentissima per carità Però l'avrei comprato Sono sincera e onesta Era nel mio carrello Amazon E poi è arrivata la collaborazione E ho detto perché no Tanto stava lì Se l'avessi comprato Molto probabilmente L'avrei letto Chissà quando Invece con la collaborazione L'ho dato a priorità Comunque Niente Io ringrazio ancora tantissimo La casa editrice Per la copia Che finirà ovviamente Nella mia libreria Da me Da Giorgio e Carlotta È tutto Noi ci vediamo sempre qui su YouTube Prestissimo con un nuovo video Vi ricordo di seguirmi Su TikTok e Instagram Dove vi consiglio Un libro da un estratto Ci saranno degli estratti davvero Bellissimi Su di loro Cioè Ne ho tirati fuori Di meravigliosi E niente Anche per oggi è tutto Noi ci vediamo prestissimo Sempre qui su YouTube Vi mando un grosso braccio Da me Da Giorgio e Carlotta È tutto Alla prossima Ciao Ciao Grazie a tutti.